Benvenuti dunque in questa edizione di giovedì 15 marzo 2012, direi di partire subito con le prime pagine dei giornali, inizio da Repubblica, articolo 18, accordo più vicino, Camusso passi avanti, nuovi ammortizzatori dal 2017, spread a quota 290, dunque continua infiammata la discussione sull'articolo 18 e dunque sui diritti dei lavoratori, si cerca un compromesso per cercare di togliere i diritti ai dipendenti e per facilitare gli imprenditori ai licenziamenti, per evitare che le leggi blindino in questo modo i dipendenti e che consentano poi ai giudici tramite i ricorsi dei dipendenti di ordinare il reintegro nel posto di lavoro per giusta causa o per non giusta causa, dunque il problema sono i motivi che potranno consentire dunque il reintegro del lavoro ai dipendenti e le ragioni per le quali consentiranno, sarà consentito agli imprenditori di licenziare, perciò è un argomento che attiene più a chi ha competenza in materia di normative legate al lavoro e dunque sindacalisti o comunque docenti di materie legate a questo tipo di discipline ma anche e soprattutto i dipendenti che ovviamente vivono sulla loro pelle la relazione con i datori di lavoro e con il luogo di lavoro, perciò non mi addentro a questa discussione in quanto non si è ancora capito cosa uscirà dal cilindro del lavoro, andrei avanti su altri argomenti che toccano più da vicino anche il nostro vivere comune e dunque sempre in prima pagina, Pirellone tangenti al consigliere del PDL, indagato Gian Mario che è chiamato Gian Burrasca, dagli intercettati finiti nei faldoni di questa inchiesta cominciata dalla procura di Monza e trasferita ora a Milano per competenza, questo è l'argomento che mi piacerebbe oggi approfondire perché si lega un po' anche alla vicenda di Davide Boni che come saprete il Presidente del Consiglio regionale non si è dimesso dalla carica e tantomeno dal partito perché rivendica di essere innocente, si è già autoassolto con delle mail, si è sottratto ai cronisti in maniera molto cafona secondo me in quanto è uscito dall'aula cercando di non rispondere alle domande affidandosi a una lettera che ha lasciato in aula e peraltro grazie a un vizio di forma è riuscito a evitare il voto segreto della mozione in aula che avrebbe probabilmente con l'appoggio dell'Udc della Regione Lombardia garantito la sua estromissione e dunque il suo decadimento, dunque mozione impedita con un vizio di forma. In più non rispondere ai giornalisti, questo è il leghista Boni che faceva tanto il Paonazzo anche con me in TV, mi minacciava di querele quando dicevo che la giunta di cui faceva parte era gravemente compromessa, quando ancora non era indagato e che dicevo e che raccontavo che la moglie di Giorgetti, il suo pigmalione di partito, la moglie ha una condanna definitiva per truffa di fondi regionali che utilizzava per se stessa, però con la parvenza che sarebbero stati impiegati per dei corsi di equitazione, la moglie di Giorgetti, segretario nazionale della Lega, questa condanna definitiva è rimasto così in Lega, dunque figuriamoci se dobbiamo meravigliarci se alla Lega arrivassero tangenti, non ci meraviglieremo anche perché peraltro la posizione di Boni viene un pochino complicata da un ex collega di giunta che è Buscemi, sempre del PDL, per un motivo che tra poco vedremo, per ora però mi soffermerei dunque sulle prime pagine dei giornali, vado al Corriere, così cambierà l'articolo 18, dunque grande tema ancora che il Corriere sceglie come Repubblica in Pandan e poi la strage dei 22 bambini che tornavano dalla gita, come saprete quell'incidente che è accaduto in Svizzera, con questo pullman che si è schiantato contro il muro di una galleria e poi arriva Michele Salvati a spiegarci che la legalità e la crescita sono le scelte urgenti di questo paese, come se fosse un argomento nuovo e poi nessuno occupa contro gli sprechi, P.G. Battista che dunque se la prende o comunque analizza il problema della corruzione vera o presunta e dei rapporti torbidi che esistono tra imprenditori che garantiscono pacchetti di voti e i politici, visto che anche il sindaco di Bari, Michele Emiliano, viene citato in alcune intercettazioni dal clan De Gennaro che è sotto inchiesta anche lì in Puglia per questioni legate alla corruzione. Dunque, PD Emiliano, segretario del PD pugliese, dopo la vicenda di Frisullo, l'ex vice di Vendola che come sapete finì nei guai con Tarantini, una buona parte del PD, quindi sinistra che viene, non è indagato Emiliano, però viene citato nelle intercettazioni e potrebbe anche aggravarsi la posizione di Emiliano se quello che emerge sarà vero, ci vorrebbe un'altra puntata per raccontarla, magari lo racconterò domani. Comunque, Battista quindi dice da un lato il PD e dall'altro il PDL con queste inchieste di corruzioni o comunque la destra in Lombardia, niente di nuovo. Taglia le poltrone, il muro delle regioni, scrive Sergio Rizzo, dunque parla degli 11 ricorsi regionali che le regioni hanno appunto posto la consulta per evitare il taglio delle poltrone, che andrebbe sensibilmente anche a provocare un risparmio di spese, a cominciare dalle regioni che hanno meno di 2 milioni di abitanti, che si vedrebbero calare tipo da 59 a 30, i consiglieri regione Lombardia, dunque una serie di uffici in meno, una serie di sottobosco politico in meno, ebbene il ricorso di queste regioni con la Liguria che è il caso più eclatante, a cominciare dal Presidente del Consiglio regionale, anche lui un po' discusso, dell'Udc Monteleone, che motiva insomma, dicendo che non c'è motivo di attuare dei tagli nelle regioni quando una normativa di questo tipo potrebbe rivelarsi anticostituzionale, e dunque dicono la norma c'è ma non la rispettiamo perché un domani potrebbe non essere più valida, e dunque questo è il motivo nobile che per esempio induce la Liguria a non tagliare il numero di consiglieri e a mantenere il numero. La Liguria, ma come la Sicilia, ce ne sono 90 di deputati regionali, le regioni a statuto speciale sappiamo che sono molto più gonfie di personale, Valle d'Aosta, Friuli e la Sicilia soprattutto. Però torniamo un attimo alle prime pagine, fatto quotidiano, oggi sapremo chi difende i ladri, il Senato vota la ratifica della convenzione anticorruzione, quella di Strasburgo 99, ma stasera al vertice fra pregni e repartiti si annunciano vetti su giustizia e RAI. Dunque, come saprete, la giustizia e la RAI, che dovevano essere oggetto del contendere dell'incontro, trilaterale, Casini, Alfano, Bersani e Monti, incontro saltato per il veto di Alfano che ovviamente sotto ricatto, questo burattino, non può permettersi normativi anticorruzione in quanto il PDL già è azzoppato con la Lega dalle inchieste sulla corruzione, come il PD è però molto di più il centrodestra in questo momento e non potrebbero permettersi dunque di recepire queste normative in quanto a cominciare da Berlusconi sarebbe in galera e ovviamente c'è la pantomima, insomma, da un lato sulla giustizia perché è bene mantenere per loro queste leggi di verticide e anti-europee, dall'altro avere la RAI e avere un servo libero, strappagato come Giuliano Ferrara che possa per esempio raccontare quelle nefandezze che ho sentito dire su RAI 1, tra l'altro devo ringraziare Trarco Mavaglio che mi ha inviato questo video, io la TV non la guardo e mi sono sforzato a sentire quei sei minuti terribili di Ferrara, dunque avere personaggi così in RAI vuole dire controllare quantomeno un bacino di voti di molti anziani che non hanno possibilità e tantomeno la capacità di navigare in rete e dunque le opinioni di Ferrara vengono prese a modello che pensa lui a gettare acqua sul fuoco e a stortare i fatti e a raccontare balle su Dell'Utri esaltando l'opera di Iacoviello che invece viene smentito dal fatto quotidiano in tema di motivi che hanno portato all'annullamento della condanna in appello da parte della Cassazione e con Travaglio che oggi scrive CSM, cechi sordi muti, rifacendosi al fatto che il procuratore generale della Cassazione è un italiano esposito, ieri ha ipotizzato il reato di Filippendio per chi come il giornale oppone delle critiche ai motivi che hanno portato all'annullamento espressi da Iacoviello e quindi tutto questo provoca discussione e ci si chiede perché, come non è possibile che noi critichiamo la sentenza e smentiamo punto su punto le motivazioni di Iacoviello e voi ci rispondete e tu procuratore generale della Cassazione ci rispondi con un tentativo di inquisirci di vilipendio e qui dovremmo addentrarci su chi sono le persone che compongono il CSM ammorbato dalla politica in quanto i componenti, ahimè pur essendo giudici, sono nominati dalla politica e questo forse ha portato alla rovina della giustizia italiana, un contributo alla rovina della giustizia che isola i magistrati magari indipendenti, non dipendenti dalle correnti, i De Magistris una volta, gli ingroia oggi o le forleo ieri e invece ammorbano le istituzioni, i gangli del potere della giustizia, qui è di chi è deputato a decidere sui magistrati e sulle condotte, dunque il CSM da un lato, la consulta dall'altro, avere giudici in nomina politica purtroppo provoca questi danni dove i giudici vanno a cena con i politici in una perita di etica totale che ci dice come questo paese sia davvero da rifondare e dunque anche della giustizia non ci sia più da fidare, non ci più da dare credito. Comunque il fatto insiste ancora su Dell'Utri e dunque un'altra paginata oggi è dedicata proprio a questo argomento, dedicato proprio al senatore di Forza Italia del PDL che è stato appunto prosciolto in Cassazione, Jacoviello, il CSM fa quadrato, il procuratore generale vilipendio, ma un consigliere influente dice che se c'è l'errore merita un'indagine. Questo per quanto riguarda Dell'Utri, il fatto è da giorni che sta insistendo su Dell'Utri, però io verrei a questo punto agli sviluppi delle inchieste che riguardano la regione Lombardia che vedono già indagato il Presidente del Consiglio regionale leghista Davide Boni e la richiesta di processo che riguarda l'ex Assessore Ponzoni. Veniamo dunque alla vicenda di Boni perché c'è una novità importante che arriva sui giornali ma che in realtà è cominciata una settimana fa con la deposizione, con l'obbligo di dire la verità da parte dell'ex Assessore Massimo Buscemi del PDL, in questa immagine a sinistra ecco qua il trio dell'Avemaria, Buscemi sulla sinistra, Formigoni al centro e Ponzoni sulla destra. Dunque Buscemi è stato sentito la scorsa settimana in qualità di testimone, compagno di maggioranza appunto dell'ex compagno di maggioranza di Boni, oggi sì in alleanza ancora in regione Lombardia, ha riconosciuto l'importante patente di accusatore credibile a Michele Ugliola, voi sapete che Boni è finito nei guai, indagato in quanto Michele Ugliola il presunto tradunione tra gli imprenditori disposti a pagare tangenti e i politici disposti a accettarle per truccare le aste, per consentire di seppellire di tutto sotto le autostrade piuttosto che riempire le cave estrative di rifiuti illegali, questa inchiesta, uno dei filoni, ha portato appunto a questo sviluppo grazie a Michele Ugliola che ha dichiarato, insomma, ha fatto una serie di riferimenti a precise tangenti e a soldi indirizzati ai personaggi o direttamente riconducibili dei politici o direttamente nelle mani dei politici e dunque Michele Ugliola aveva riferito di questa prima tragica, una tangente di 100 mila Euro che doveva essere di 300 mila, destinatario doveva essere Boni, per le mani di Marco Ghezzi, capo della sua segreteria che si è dimesso, Marco Ghezzi, capo della segreteria di Boni, si è dimesso dalla carica e è rimasto invece Boni a fare così la parte dell'innocente. E dunque Buscemi cos'è che ha raccontato? Semplicemente ha confermato quello che ha detto Ugliola, almeno nella prima parte del discorso, ossia che per lo smaltimento di rifiuti da mianto all'onate Pozzolo sia stato avvicinato nel 2009 da un pool di imprenditori pronti anche a stanziare 200 mila Euro per tangenti da destinare ai politici competenti, Ugliola, e dunque Ugliola, vista l'offerta, ha deciso di parlarne con Boni e Ghezzi e anche Buscemi, che all'epoca era assessore alle risorse idriche, mentre Boni era assessore al territorio. I primi due non tentennano, dice Ugliola, ritenendo l'importo offerto, ossia i 200 mila Euro, congruo e ne accettarono la promessa, mentre Buscemi in questa occasione non volle, ha concluso Ugliola, specificando però che l'allora assessore ai rifiuti del PDL in realtà si sarebbe accontentato di un incarico professionale per il suocero Piero D'Acco, cioè Buscemi dice io non voglio soldi, mi accontento di un incarico a mio suocero Piero D'Acco, che oggi è in galera per la vicenda del San Raffaele, e dunque questa parte Buscemi la conferma e se Buscemi, un ex assessore da Manforte Ogliola, vuol dire che la posizione di Boni si complica, potrebbe complicarsi. Dunque, confermando la prima parte del racconto, ha detto che a quella conversazione Buscemi ha effettivamente partecipato, anche se non ha preteso alcuna consulenza per il suocero, cioè dice c'è stato questo incontro, però io non è vero che ho preteso un incarico per mio suocero, però Ugliola, io Boni, così c'eravamo assieme. E dunque non è poco per il futuro e per lo sviluppo di questa inchiesta, di questa indagine. Dunque di questi presunti 300 mila Euro, di tangenti recapitati in più tranche all'undicesimo piano del Pirellone, non c'è traccia, i soldi non ci sono. Perché? Perché se Ugliola racconta di averli dati in contanti, è chiaro che i contanti li imboschi subito, è chiaro che se anche Boni li avesse presi non sarà mica stato così pirla di mettersi sul suo conto, corrente. Ci sono mille modi per farli sparire i soldi contanti, vai in Svizzera con la valigetta, paghi un tassista o un qualcuno, ti va in Svizzera, ti nasconde, per esempio, ci sono supposizioni, però allo stato attuale non c'è prova, non si può dire che Boni ha incassato i soldi perché non ci sono, ci sono solo queste dichiarazioni. Però ci sono delle fatture, fatture che sono state emesse nei confronti di una consulente di Boni che è Monica Casiradi, vice sindaco di Lissone della Lega, all'epoca in cui Boni era assessore al territorio, fatture per 50 mila euro in più tranche, questo è allo stato attuale la situazione. Dunque, le dichiarazioni di Buscemi, socio già, se ricorderete, della signora Gariboldi, moglie dell'ex assessore provinciale alla sanità a Belli, che come saprete ha patteggiato una condanna di poco o meno di due anni, restituendo più di un milione di euro che aveva riscosso e nascosto a Monte Carlo per la vicenda delle bonifiche dell'area di Santa Giulia in cui era inquisito la buonanima di Grossi. Ricorderete, dunque, Buscemi, socio della Gariboldi, lei assessore provinciale a Pavia, lui già assessore al territorio, soci e dunque socio anche, comunque collegato a Boni in quanto assessore della stessa giunta regionale, come assessore era anche Ponzoni, che appare sempre in questa foto che devo riproporre in maniera proprio così insistente perché in mezzo c'è Formigoni che dice, continua a ripetere che un avviso di garanzia non è una condanna e dunque lui dice la responsabilità è personale, io non so niente, fa un po' lo scaiola, io non conosco niente, non so niente e dunque devono arrestare solo lui, indagare solo lui e poi siamo a posto in Lombardia. Ci siamo tanti meravigliati della Calabria che aveva 35 consiglieri indagati su 50, in Lombardia ne abbiamo 9 su 80, che non è male, direi che la Lombardia si colloca saldamente alle spalle della Calabria e dunque in questo momento l'istituzione regionale che si blinda nel Pirellone, nuovo, messo a nuovo di zecca, davvero non è un bel biglietto da visita con 9 persone indagate, con i due vicepresidenti, cioè con gli uomini più vicini a Formigoni già arrestati, finiti in galera o comunque inquisiti in inchieste di tangenti. Parlo di Penati, Nicoli Cristiani e adesso Boni indagato. Il Giamburrasca è invece Angelo Giammario che è un consigliere regionale in carica ed è la nuova, il nuovo filone che riguarda questo personaggio del Pdl e Giamburrasca è il nomignolo che gli danno due imprenditori, uno dei quali dice «Ah, è per quello che non mi ricordavo, quando esce questo nome va nella parte destra del cervello, cavolo!» e dunque da questa intercettazione captata dalla Procura di Monza nel 2009 c'è lo spunto dell'inchiesta che appunto ha condotto i carabinieri del NOE, sono in carico della Procura di Milano a perquisire in regione il Giamburrasca, in questa immagine evocato nella telefonata, ossia questo consigliere regionale, Angelo Giammario, delegato alle relazioni con l'area metropolitana, consigliere d'amministrazione della Bocconi, dunque sicuramente conosce anche Mario Monti, il rettore della Bocconi, per carità, Giammario, ex cancelliere dell'ufficio GIP del Tribunale di Milano, è indagato dunque per ipotesi di corruzione finanziamento illecito al partito in relazione a 10 mila Euro, voi pensate per 10, miseri mila Euro, che sono meno di quelli che hanno messo nei guai due assessori comunali della Lega a Brescia, qualche tempo fa vi ricorderete, dunque 10 mila Euro presunti di tangente, ricevuti a mano il 18 marzo 2009, secondo gli inquirenti tramite il commercialista Gian Mauro Nigretti, sui 30 mila che gli imprenditori Achille Baronchelli, Fulvio Saldini e Nicola Di Rosario, cioè il sodalizio che formava questa società che si chiama Consorzio Stabile Litta, avrebbero promesso al consigliere regionale, perché cosa? Affinché si muovesse dall'interesse degli imprenditori nell'associazione di appalti per il verde pubblico di competenza regionale e a quanto pare anche per avere appalti in Romania, che erano un po' a quanto pare le mire che avevano Favata e Gabrielli, con Paolo Berlusconi come tramite per Silvio Berlusconi affinché ottenessero sempre in Romania appalti per le intercettazioni. In questo caso invece abbiamo questa indagine che riguarda invece il verde pubblico, dunque pagare un consigliere regionale affinché questo, turbativa d'asta, favorisca loro e gli assegna gli appalti, questo è in sintesi il nocciolo della questione. Il commercialista Migretti, interrogato dai PM di Monza, ribatte che la consulenza non era fittizia, perché anche qua esistono fatture, e che gli imprenditori volevano sapere se e come entrare sul mercato romeno del verde pubblico, l'ipotizzata consegna dei soldi a Milano, anche in questo caso non c'è traccia dei soldi, ci sono solo delle indagini, determina Monza a trasmettere a fine 2010 per competenza territoriale l'indagine, il fascicolo è quindi ora pendente da Monza a Milano, mandato dal PM Baggio che lavorava a Monza che però adesso si trasferisce a Milano, entrerà nel pool di Alfredo Robledo e dunque si ritroverà a Milano il suo fascicolo che da Monza lo ha trasportato lì, per cui potrebbe anche essere che si erediti anche a Milano Baggio questa sua inchiesta che già conosce, il fascicolo è quindi ancora pendente, scrive Ferrarella e dunque il PM Baggio passa a lavorare con l'aggiunto Robledo proprio alla procura di Milano dove ritrova l'inchiesta e gli ridispone la perquisizione, perciò nel tassello degli indagati per corruzione si aggiunge quest'altro uomo di Formigoni in Lombardia che si chiama Gianmario, Gian Burrasca per gli amici, si unisce appunto Boni che è indagato per corruzione, la cui posizione potrebbe aggravarsi in quanto l'ex assessore Buscemi conferma l'incontro tra lui Ugliola e Ghezzi dove però dice io non ho chiesto favori per mio suocero, sulla Padania non si trova traccia di questo argomento nemmeno oggi, su Perimps con 13 miliardi di debiti come si pagheranno le pensioni? I partiti imitano Benito, sopra qua Calderoli PD, PDL, UDC gettano la maschera, l'obiettivo è bipartitismo e su Schifani non è super parte, sbricolo vergognoso, poi il CSM assolve tutti i magistrati, bocciato l'emendamento sulla responsabilità civile, firmato Lega e già approvato dalla Camera, come saprete appunto questa normativa voluta dal centro-destra non è passata al CSM e dunque non potrà essere il giudice responsabile, non potrà rispondere di più di quello che già risponde il giudice personalmente sulle sue decisioni che riguardano la vita degli imputati, delle persone che mette sotto indagine o che sbatte in galera. Direi che questo oggi possa bastare, siamo solo in attesa di Formigoni di capire ancora per quanto tempo andrà avanti questo Consiglio regionale della Lombardia totalmente screditato, mentre ormai è un tutti contro tutti, dunque un esponente del PDL come il Buscemi che non ha problemi a confermare e dunque a inguaiare la posizione di un suo alleato della Lega, vi fa capire ormai come la rottura tra i due partiti sia definitiva e vi fa capire che quello che accade in Lombardia accade poi a Roma, dunque se la Lombardia guida la politica vi fa capire che fine sta facendo questo centro-destra vetusto comandato da un corruttore, ormai assodato, che con Formigoni dovrebbe si spera chiudere una parentesi davvero lunga e rovinosa per l'Italia che è questa seconda repubblica e che dovrebbe indurre i commentatori come Salvati oggi in prima pagina che si lamentano di corruzione a fare almeno i nomi di quelli che in qualche modo sono responsabili di questa disfatta e che trova nel centro-destra soprattutto questo problema e nel centro-sinistra dei silenti conniventi e complici di cui Salvati appartiene in quanto, ahimè, si è sempre dichiarato giornalista di centro-sinistra e questo non è un bene per chi fa giornalismo. Grazie, a presto!